Nonostante le normativi vigenti a Salerno, come anche in altre città italiane, sempre più minori consumano alcol, aggirando divieti e prescrizioni con la complicità di negozi e locali vari. A denunciarlo il presidente dell'ICAT, l'Associazione dei Club Alcologici Territoriali, Anienlo Baselice, in occasione della chiusura del corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcol correlati e complessi, promosso in collaborazione con il Centro Studi Atlantide e la cooperativa Labo Steam. Un momento formativo organizzato con il chiaro intento di sensibilizzare i partecipanti a mettere in discussione convinzioni e comportamenti nei confronti del consumo degli alcolici, spesso visto come meno pericoloso e rionamente rispetto ad altre dipendenze, favorendo la promozione della salute nella collettività. Un corso che ha visto la partecipazione anche di tanti ragazzi, tra i 41 iscritti, anche alcuni studenti del liceo classico Giovanni Paolo II di Salerno, che poi avranno il compito di divulgare a scuola corretti comportamenti alcologici, un ruolo quanto mai importante, alla luce dei dati preoccupanti sul consumo dell'alcol tra i minorenni, come già detto, e tra i giovani in generale. Una vera e propria emergenza, secondo l'ICAT, che richiederebbe un impegno maggiore anche delle famiglie, oltre che delle istituzioni. In base ai dati istati infatti del 2013, tanti ragazzi, anche minorenni, hanno avuto il loro primo contatto con lo sballo alcolico tra le mura domestiche, più che nei locali, come invece accaduto per i loro coetanei maschi. La novità di questo corso, rispetto alle altre edizioni che facciamo quasi ogni anno, è la presenza di ragazzi di un liceo di Salerno, che erano stati, come dire, incuriositi da un nostro precedente intervento in quella scuola. Sono ragazzi che hanno fatto, con la loro vivocità, anche, come dire, hanno creato momenti anche di grosso confronto, anche rispetto all'esperienza che loro vivono con i loro coetanei. È un mondo dove, ovviamente, e l'abbiamo visto anche nella loro testimonianza, c'è fortissima la difficoltà di immaginare un fine settimana, un luogo di divertimento, un momento di divertimento senza sballarsi. E il fatto che oggi i ragazzi siano venuti qui per mettere in discussione questa cultura e, soprattutto, per capire se è possibile creare un nuovo modo di essere giovani e di divertirsi, credo che questo sia, come dire, un input che attiverà i ragazzi a essere elementi anche di, come dire, di provocazione e di cambiamento culturale, con le esperienze che stiamo valutando da fare con loro di educatori tra pari. Quindi, più che sentinelle no alcol, non è tanto il problema di combattere la sostanza, ma di promuovere uno stile di vita diverso, anche a livello di aggregazione giovanile.